E' aperto? Sìììì! 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 Se da loro c'è qualcuno che Ma io mi va a bere un po' di caffè Sììì! 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 Sìììì! 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 Sììììì! Dico l'amore delle tante nuove, e poi solo per galore il Signor, andare a presa a tutto quello che c'è, si è triste e nel canto e per me, e la infezza non è fece un grande. La, 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 la Napplai da!